Questo episodio inonda il 14 maggio 2008 30 alle 5 del mattino da Yetix. Ero sveglio e guardare la TV ho visto che Yetix presentava un episodio mai visto di due fantagenitori. L'episodio è stato chiamato Timmy è morto in spagnolo Timmy è morto, sembrava essere un episodio di pirata come il character design non era perfetto. L'episodio è iniziato con Timmy sul bus che arrivano a scuola quando appare Francis e dà un super pugno Timmy, i greca besote eseguire per vedere chi sgorga il sangue dal naso a causa del pestaggio data. Poi arriva insegnante di scuola ed Enzel Cracker ti dice cosa non è riuscita ed espulso Turner tornare a casa a piangere, ma non piange in modo caricaturale dire, il mio pensiero era qualcosa di diabolico in modo piangeva. Poi va a parlare con i suoi padrini Fata dicendo che odia la sua vita, quando ha detto che era strano per essere un problema per i bambini, ma ho continuato a guardare perché ho trovato questo interessante capitolo. Wanda chiede perché e dice che Timmy risponde con una voce strana cosa succede a me e io sono stufo di tutta questa merda era raro Timmy usando parolacce. Poi i genitori di Timmy ridere un modo diabolico dire Timmy di essere parte e ho dovuto stare con Vicky. Da Vicky a sembra qualcosa di strano sullo schermo per alcuni secondi solo immaginare un bambino come un senza testa e dei vermi dentro di lui, era una cosa disgustosa. Poi di nuovo apparire Timmy Vicky dice a un idiota che è un senza vita stupida e più parolacce, sono stato sorpreso di sentire tutto questo essere un problema per tutta la famiglia. Timmy dopo essere andato in bagno e comincia a piangere, ma questa volta a piangere sangue, Cosmo e Wanda a tempo sembra dire cosa succede Timmy e dice finirò questo, Timmy desidera di morire. Cosmo e Wanda dirgli di non farlo o andranno a una prigione magica, Timmy rise così diabolico e poi il suo desiderio fu soddisfatto. A Timmy gli saltano via gli occhi in modo macabro, i denti marciscono e Berretto prende fuoco per nessun motivo. Timmy si trova nella vasca da bagno, tutto insanguinato, Cosmo e Wanda a vedere che fanno fuori a piangere. Poi arriva e dice Jorgen Cosmo e Wanda chi andrà in prigione magica magico mondo Cosmo racconta a Jorgen non era colpa loro e che Timmy suicidato dallo stress che aveva. Jorgen ha risposto che la sua missione era quella di far condurre a Timmy una tranquilla infanzia senza suicidio dopo che i genitori di Timmy arrivano e vedono il bagno e il sangue e danno la colpa a Vicky. Lei ha risposto che lei non lo ha fatto. I genitori arrabbiati e fuori controllo iniziano a rompere tutto vedendo Timmy morto nel bagno. Vicky soffre le conseguenze e i genitori la processarono, gli amici di Timmy possono testimoniare e dire tutta la verità su Vicky. Vicky finisce con l'ergastolo. Ma quello che viene dopo non la dimenticarò mai è, la videocamera inquadra in primo piano Vicky e una voce diabolica dice viene a vendicarsi di tutti. Fine.